Facciamo una cosa, adesso il sacchetto qua, ve lo passate tutti quanti e controllate, ok? Vai, metti dentro la mano, guarda che non ci sia nulla, ok? Facciamo passare a tutti le ragazze, io intanto che tu controlli, vado dalle ragazze, noi ragazzi. Allora adesso qua, prendete tutti quanti le palline macchine che abbiamo qua, prendi, prendi le palline, vai, prendi, vai, vai, prendi tutte le palline, arrivo io, ce ne sono per tutti, ce ne sono per tutti, non ce ne ho per me, oh, che bello, va che bella partecipazione di pubblico, oh, attenzione però, eh, scusami, vai, vai, prendete, prendete, ce ne ho per tutti, vai, vai, palloncini, palloncini, oh, va che bello, va che bello quando il pubblico è così, è convolto, va che bello, oh, anche le signorine, ci siamo, preso tutti, oh, ok, mancano, aspetta che ho un po' in tasca, aspetta, aspetta, anche di qua, oh, ok, va bene, perfetto, ok, palloncini, ok, ok, perfetto, le ultime palline, ok, ok, c'è qualcosa dentro, ah, c'è dentro il palloncino, eh, sei stata finita, ma, eh, questo è il tuo palloncino, eh, non l'ho visto, adesso, comunque, il palloncino è muoto, no, attiva, ah, è ripreso, chiedo scusa, chiedo scusa, alle ragazze, controllate che non c'è niente nulla, che sento ropperle, ok, controllate, qui, non è la pannina che ci serve tra poco, eh, adesso anche te, ok, perché le donne sono quelle più, faccia miseria, vale più difficili, eh, va bene, va bene, va bene, allora, principessa, anche te, controlli il palloncino, vuoto, c'è niente, ok, controlliamo, perfetto, vuoto, ok, l'ultima, ok, hai già controllato, ancora, poi basta, eh, se no, vai, vuoto, ok, allora, adesso, tutti voi avete pescato delle palline, giusto, tu, no, aspetta, faccelo qua, eh, allora, allora, bravissima, vedi me la prego, anche voi, è questa tasca, allora, vai, ok, adesso dovete fare una cosa facilissima, tutti quanti voi dovete provare a lanciare la pallina qua dentro, ok, ok, 50 bambini, vai, lancia, lancia, no, niente, non lo troviamo, no, sentite qualcosa, sentite qualcosa, oh, chi vuole la pallina rossa, bravissimi, bravissimi, allora, che la pallina rossa che non ce l'aveva, io, 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 io ce l'avevo, eh, tu ce l'avevi, ce l'avevo, tutta la pallina rossa, allora, ragazzi, facciamo una cosa, la pallina rossa, da questa mano, la metto qua, la lancio, io, la pallina mi finisce in tasca, ok, Barsi, guardiamo bene la pallina, se io la prendo, io la faccio così, le palline diventano due, qua le vedete tutti quanti, le due palline, ci siamo? Sappiamo contare tutti fino a dieci, sì, Allora, seguito il movimento delle mie mani, ok, contiamo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, Proviamo, facciamo il contrario, da dieci a uno, eh, vai, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, il risultato non cambia, le palline con noi insieme, Eh, però, guarda, adesso facciamo una cosa, una, due, due palline, e chi mi dai una mano, per un po' che mi dai una mano? Ehm, ma come è? E c'è? Tu? Allora, ti consegno, ti chiami? Irene, un applauso, Irene, ok, allora, Irene, vieni pure qua, ci lascia il pubblico, Dammi la mano, e ora ti consegno due palline, chiudi la mano, girala, recupero ancora un po' di polvere magica che ho, ma questo giugno è qua, oh, allora, un po' di polvere magica, prendo, scusami, eh, scusami, oh, la pallina che hai a riporto, te la lancio in mano, hai sentito qualcosa? Sì, no, con quinti, due palline, pallina immaginaria, per un po' di polvere magica, la pallina si materializza, il mano hai, quante palline? Tre palline. Ti lascio pure qua? Ma cosa succede se noi mettiamo tre palline in un sacchetto vuoto? Eh? Ragazzi, prendiamo una pallina, la mettiamo qua, la seconda pallina la mettiamo qua, terza pallina nel sacchetto vuoto, lanciatevi tutta la polvere magica che avete in giro, lanciate, 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 ok? Basta, vieni a posare, posa, perché posa? Perché hai tre palline, ho tre palline, ho tre palline, bravo, bravo. Grazie, grazie mille.